Welcome back Guardians, qui da chi parla e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di Leak, inerenti a Destiny 3. Faccio una mega premessa gigantesca prima di iniziare col video. Chiaro parlo di Leak, ok? Molti youtuber, sia italiani che esteri, hanno già iniziato a parlare, sia no, di qualche Leak in maniera poco espansiva. Io dico di prenderli tutti assieme e parlarne di tutti quanti. E quello che cercherò di fare oggi è appunto analizzare questi Leak passo per passo con voi e esprimere la mia opinione, ma anche voi dovete esprimere la vostra nei commenti e farmi sapere se queste novità di cui parlerò oggi potrebbero realmente rialzare Destiny. Perché, parliamoci chiaro, Destiny 1 ha avuto, era un bellissimo gioco, ha avuto il successo che aveva, ma dalla critica non fu mai tanto apprezzato. Destiny 2, la critica l'ha distrutto e si è distrutto poi da solo Destiny 2 più avanti. Ma quello, vabbè, sono cose che capitano a quanto pare con Destiny. E Destiny 3 cercherà di rilanciare la saga, quindi vediamo assieme se queste novità potrebbero effettivamente riportare in auge Destiny, dato che per adesso Destiny 2 ha perso tanta, forse troppa, credibilità. Detto questo, partiamo con la storia. Questi sono, ovviamente, ripeto, ragazzi, Leak. Non penete alle mie labbra, sono scritti e detti da Anonymous Hunter, che per chi non lo conoscesse, è il nostro Adamus, i Destiny. Aveva già più o meno spoilerato i primi due DLC, cioè la maledizione di Osiride e la mente bellica, e aveva spoilerato a settembre del 2017, cioè al lancio di Destiny 2, che Cade sarebbe morto. Molti non gli diedero credito. Un anno dopo, invece, sì, dato che, appunto, Cade, purtroppo, morì realmente, e quindi si sta facendo un po' di fama Anonymous Hunter. Però, ripeto, sono Leak, vediamoli assieme e partiamo dalla storia. La storia, si dice, sia enormemente più dettagliata rispetto a quella di Destiny 2. E l'attacco Cabal alla Torre e al Viaggiatore non sarà mai paragonabile a quello che avverrà in Destiny 3 da parte delle navi triangolari. Difatti si dice che l'attacco sarà devastante per l'ultima città e distruttivo verso il Viaggiatore. Sappiamo che tutte le forze del Sistema Solare saranno in lotta tra di loro. Le fazioni che sono legate alla luce lotteranno contro l'oscurità e così viceversa. Sappiamo che l'oscurità da noi conosciuta sarà portata avanti dalla razza chiamata Iveil, cioè Ivelo, e saranno loro a controllare le navi triangolari. Sappiamo inoltre che Caduti e Cabal saranno finalmente in una sorta di alleanza con i Guardiani e quindi saranno alleati della luce. Ora, questa cosa qua più o meno la sapevamo già e ve l'ho già parlato io e anche tanti altri youtuber di lore, perché appunto, lo potete vedere anche voi, che i Caduti pian piano stanno sempre rimollando i loro ideali malvagi, tra virgolette, e stanno sempre più diventando buoni o comunque legati alla protezione della luce. I Cabal sono più neutrali, ma soprattutto quelli legati all'imperatore Calus sono già più sul buono rispetto a quelli legati alla regione rossa. Quindi diciamo che queste fazioni sono quelle più appetibili ad un'alleanza e probabilmente la vedremo appunto in Destiny 3. Inoltre si dice che incontreremo i 9 e anche su questa notizia penso che sia effettivamente vera, dato che l'emissaria dei 9 ogni venerdì in pratica ci sta portando sempre più vicino a quest'entità. Inoltre, dato che appunto l'ultima città e la Terra in generale saranno conquistate dall'oscurità, dovremo essere costretti a lasciare il pianeta. E quindi parliamo delle destinazioni. Partendo dal fattore che le mappe saranno, e si dice, più grandi rispetto a quelli di Destiny 1 e Destiny 2 messe assieme, quindi wow, molti più settori perduti, molti più nascondichi, molti più intrighi da svolgere all'interno delle mappe perché appunto saranno più evolute, saranno molto più grandi. Ma le mappe e le destinazioni che andremo ad incontrare in questo fantomatico Destiny 3 saranno Europa, che non è quella presente nel pianeta Terra, ma principalmente una luna di Giove. O il Chicago, cioè la vecchia Chicago, di cui ne ho parlato con la lancia gravitazionale, che è una vecchia città colpita dalle radiazioni atomiche e che è stata appunto abbandonata dopo la sconfitta da parte del viaggiatore verso l'oscurità. Infatti questa città cadde con l'arrivo dell'oscurità nel nostro sistema solare la prima volta e da lì fu appunto lasciata se stessa. Adesso è una zona paludosa e sarà molto interessante perché appunto andiamo in America. Finalmente direi, perché con Destiny abbiamo sempre visto un po' l'Europa, abbiamo visto un'Europa orientale, sempre più orientaleggiante. Siamo passati adesso in Germania con appunto il rifugio eccetera eccetera, ma comunque più o meno della Terra conoscevamo soltanto il Cosmodromo in Russia, l'ultima città che appunto si dovrebbe trovare in centro Germania e appunto il rifugio. E finalmente andremo appunto in un altro continente. Venere, che abbiamo già conosciuto, e Hollowed Spire, che questo pianeta di cui non riesco a trovare una vera traduzione, quindi ve lo dico tale e quale, dovrebbe essere la fantomatica zona nera di Destiny 2, cioè una zona PWP dove le fazioni cercherano di sovrastarsi l'una sull'altra per il controllo del territorio. E questa veramente è una cosa molto interessante. Parlano di fazioni appunto, parliamo delle fantomatiche fazioni che saranno presenti in questo Destiny 3, di cui sappiamo già che potrebbero avere dei perk, cioè unirsi a una fazione ti porta dei perk specifici al tuo personaggio. E partiamo appunto da quelli che conosciamo già, cioè Cult Guarda Futura, Orbita Morta e Nuova Anarchia, che saranno a quanto pare sempre presenti, magari con diversi ideali comunque, perché comunque dopo un attacco così devastante cercano di prendere il sovravvento l'uno sull'altra per il controllo di quel che rimane, di guardiani, degli ultimi umani sulla Terra. Abbiamo poi il caduto del giudizio, quindi una fazione legata ai caduti e a cui potremmo unirci anche noi. Le ombre dell'imperatore che, nonostante siano contro l'oscurità, avranno dei perk molto simili. E poi addirittura la Veil's Hand, cioè la mano del velo, la mano velata, che appunto porterà al nostro guardiano un'oscurità più pura al suo interno e quindi avere dei poteri legati all'oscurità. Parlando di razze, quindi, abbiamo andato già a dire che appunto Cadute e Cabal saranno i nostri alleati, avremo ancora l'Alveare, i Vex, i Corrotti e poi due nuove razze. Gli Apellion, che non sappiamo granché su questa razza, sappiamo soltanto che saranno devastanti dato che sono la razza più pericolosa del nostro sistema solare e per di più saranno capaci di sopprimere le nostre abilità legate a luce o scurità che sia e non solo, saranno in grado di ressarsi l'uno con l'altro. In pratica combatteremo dei simili guardiani capaci di ressarsi l'uno con l'altro se non saremo bravi di ucciderli, quindi questa sarà veramente novità al gameplay. E appunto poi i velo, che questa specie sarà un po' il collante come lo siamo noi tra i cabali caduti e quindi sarà il collante penso tra Apellion, Corrotti e Alveare e anche questa è una razza che sarà la razza nemica principale in Destiny 3 saranno in grado di sopprimere tutte le abilità legate alla luce e per di più avranno un campo gravitazionale che oltre a farli gravitare si dice facciano ruotare l'oscurità intorno a loro. Quindi non so come me li posso immaginare perché li immagino molto fighi ma effettivamente senza avere un'immagine per vederli sono solo l'immaginazione quella che c'è nella testa e non saprei dirvi di più quindi quello che sto immaginando è che appunto è un essere magari un po' stile maliarda con l'oscurità che gira attorno e che fluttua di continuo che sono tutti così però, tipo tante maliarde che volano magari fatte anche un po' più particolari ecco, dato che sono l'oscurità in sé. Tornando su Love of the Spire appunto sarà la nuova disinazione legata all'endgame più massiccio del gioco quindi l'endgame si baserà soprattutto su questa zona PvP avrà un sacco di loot e appunto sarà legato alle fazioni quindi fazioni cercheranno di combattere l'una con l'altra per accaparrarsi questo territorio inoltre si dice che all'interno di questa All of the Spire ci sia un monolite alieno di una civiltà antica dove si sia formato la singolarità un essere speciale che appunto oltre ad essere il boss di un futuro ride sia una razza sconosciuta ma presente prima dell'umanità stessa quindi wow, ok, va bene queste sono voci proprio vocine di corridoio, neanche più voci vocine di corridoio si dice che i ride saranno due appunto uno dei quali sarà nel Low of the Spire per combattere questa singolarità e saranno formati da 12 persone ora, wow, grande notizia 12 persone sarebbe un ride stupendo il problema è che cinematograficamente sarebbe stupendo a termini di gameplay non penso possa funzionare dato appunto il massimo di 6 persone in party o il massimo di 8 persone in party e per il casino che comunque si creerebbe con una coordinazione che non è mai al massimo cioè poche squadre hanno una bellissima coordinazione quindi sarà un po' da vedere questa notizia penso sia la meno plausibile di tutti sui due ride ok ma su un ride da 12 persone momento poi se saranno dei ride brutti come, non so, anche perché il posto cieco può arrivare fino a 9 persone ecco, ma non è che ci vuole tanta coordinazione nel posto cieco se sarà un ride così mentre un altro fatto meglio penso che ci possa andare abbastanza bene solo che, ok, 12 persone, figo però è un ride del cazzo alla fine quindi è da pensare da pensare un attimo e da vedere un po' come la strutteranno questa cosa ho detto tutto quello che sapevo ho detto tutto quello che sapevo la mia idea è che un gioco così possa veramente spaccare la cosa che mi rende difficile pensare che tutte queste notizie siano vere innanzitutto è cioè, sono per due fattori principalmente uno è la presenza confermata del crogiolo dato che appunto molti si erano spaventati hanno detto non ci sarà il crogiolo in futuro no, ci sarà il crogiolo ma voglio vedere come sarà strutturato cos'è? facciamo due squadre squadre legate alla luce contro squadre non legate alla luce o ci saranno delle squadre che avranno guardiani oscuri guardiani della luce assieme perché mai dovrebbero combattere assieme per altre cose cioè, il crogiolo già è un casino se le fazioni avranno questo ruolo così fondamentale sarà complicato portarlo avanti in termini anche di senso ok? soprattutto per senso poi il gameplay chi lo sa come sarà però in caso come senso il crogiolo non funzionerà non sappiamo se ci sarà sarà ancora chiamato crogiolo e non sappiamo come funzionerà quindi giustamente io metto le mani avanti e dico soltanto che come adesso non potrebbe funzionare per sensi logistici altra cosa che mi spinge un po' a pensare che sarà complesso il tutto è la storia storia che non so come potrà incidere se uno si lega a una fazione o a un'altra fazione cioè se io sono legato all'oscurità cosa combatto? i guardiani? faccio crogiolo? e il mio obiettivo quale? proteggere l'oscurità? perché dovrei essere legato all'oscurità? perché cioè sto facendo troppi quesiti e che avranno risposta tanto in un Destiny 3 quindi sotto questo aspetto è complicato avere diciamo chiarezza sul gioco che avremo quello che posso dirvi è che per adesso le notizie sono tutte fighe ma Destiny ha sempre notizie fighe poi è quando arriva quando arriva il momento di giocarlo che ti passa la voglia quindi speriamo che effettivamente mantengano ciò che si è scritto nei leak fatevi sapere la vostra qua sotto il video è durato parecchio ma c'era bisogno di parlarne e niente ci vediamo ad un prossimo video fatemi sapere qua sotto quello che pensate ragazzi ditemi voi la vostra perché sono veramente curioso di sapere di tutti un commento cioè voglio sapere da tutti quelli che vedranno il video sì bello no fa schifo Destiny è morto Destiny è vivo fatemelo sapere qua sotto bella guardiani favoloso non finirà finché non canto vittoria e io non canto mai non finirà finché non canto vittoria